Ecco come passiamo tutti cose giornate Tutti in San Viglio E anche così Così Che giornata è faticosa Tu affaticati un po' Che vita faticosa Che stanchezza Che durezza Oh my god Oggi è bellissimo Oggi è 7 agosto Domenica venite? Domenica 7 agosto 2016 Affaticandoci Cosa ne fa? La nostra quotidianità Guardate questo bellissimo Guardate questo bellissimo Guardate quanto è capito Guarda quanta fatica Povero bambino Povero bambino Avete visto la fatica di questo giovane Che è costretto Si è saltato a fare capriole Bravo Vediamo quest'altro giovane delinquente Cosa faccio? Farò 10 capriole Delinquentello 10 capriole in avanti sotto l'arco Via Tanto non si sente niente Via 10 capriole in avanti sotto l'arco 10-7 è uguale Ma io ho 10 di fila Ragazzi Sallevami No davvero ne faccio 10 Ne faccio io 10 di fila Tutti i due ha vinto manuel ha vinto manuel ha vinto manuel ragazzi sapete una cosa questo tipo di giornata col sole è quello che preferisco di tutto tipo di giornate adesso guardate una cosa anche in autunno anche in autunno con il piccello ragazzi guardate quanto tempo rimango sott'acqua dai vediamo è vero quanto tempo rimango sott'acqua siete pronti? se c'è di giallo via sono piccata via anche io manco solo io ragazzi guardate quanto rimane mio padre più lungo più lungo della lunghezza va lunghissimo in acqua tendo molto il respiro noi parliamo teniamo il respiro ma non si sente niente tanto perché c'è la custodia quindi allora si deve ok si deve si deve farsi nuotare deve nuotare da qua ci esce da qua fino a là si ma non ne ho voglia ok metterò sott'acqua a ciclare di nuotare per una distanza infinitesimale cerca di nuotare fino alla fino alla fino alla da lì alla più grande saltatore arabo da lì alla uno due uno via uno due tre sei tre due 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 tre Grazie a tutti. Guardate! Non si sente niente! Guardate quanto ha fatto mio padre! Da qua! Da qui! Ecco un cagallone di uccello! Esattamente allì! In acqua! La manda mio padre! La mette! Il cagallone di uccello! E anche un cagallone di uccello! Ciao ragazzi! Ciao ciao! Guardate l'ultima cosa! Guardate come vi salutiamo sott'acqua! Ciao! 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 Ciao!